Perché bisogna, usiamo questo termine, dare il 5 per 1000 allo IOB? Perché non c'è cura senza ricerca. La ricerca ha un impatto importantissimo in campo oncologico e quindi se noi facciamo tanta ricerca forniamo ai nostri pazienti nuove cure, nuove diagnosi e quindi siamo in grado di migliorare la loro vita e magari di fargli vincere la battaglia per il tumore. Quindi la ricerca è importante per questo. Siamo in un momento di grandissima evoluzione dell'oncologia e la ricerca è stata fondamentale. Senza di questo saremmo ancora ai vecchi sistemi. Per esempio voi col 5 per 1000 siete riusciti ad andare avanti proprio nella ricerca per quello che riguarda la terapia immunologica. Sì, il 5 per 1000 è per noi un finanziamento importantissimo. Vale circa il 25% di quello che noi utilizziamo in ricerca tutti gli anni. Quindi un finanziamento molto rilevante e ci ha consentito di far partire dei progetti che adesso sono ancora agli inizi su un aspetto molto innovativo che è la cura immunologica dei tumori che sta rivoluzionando il mondo dell'oncologia. Per cui stiamo lavorando su questo e quindi il contributo dei cittadini è stato messo anche su questo. L'ultimo insomma. Però devo dire oggi mi è arrivata la notizia che il finanziamento, il contributo dei cittadini 5 per 1000 relativi al 2014 è molto aumentato rispetto a prima. Abbiamo avuto circa 3.000 sottoscrizioni in più, quindi abbiamo quasi 30.000 sottoscrizioni e la montale complessivo è 1.400.000 e qualcosa. Quindi questo vuol dire, io sono molto contento di questo, perché vuol dire che quello che noi facciamo è stato percepito in modo positivo dai cittadini. Quindi per noi è una grande soddisfazione da questo punto di vista. Vuol dire che siamo sulla buona strada. E poi per chi fa ricerca è necessario anche in qualche modo sapere di lavorare alla lunga distanza, no? Cioè, sapendo di avere un minimo di copertura che garantisca dei risultati come quelli che avete ottenuto finora. Sì, beh, questo per forza. Allora, quello che sto facendo io è cercare di utilizzare meglio questi finanziamenti mettendoli su alcuni progetti, dandogli le gambe per andare. Ovviamente controllandolo nel tempo all'andamento delle cose, non è che vengono messi i soldi e poi uno fa festa. Io controllo e quindi il mio ruolo è anche quello di verificare attentamente come stanno, come avviene l'utilizzo di questi finanziamenti. Il problema è che non c'è mai tempo abbastanza, vorremmo avere risultati subito, vorremmo poter subito cambiare le cose. Invece il tumore non l'aspetta. Noi ovviamente questa idea che abbiamo fretta la do frequentemente ai miei. Quel che è certo è che la ricerca medica sta vivendo cambiamenti epocali, terapie più efficaci, che vengono non a caso definite sartoriali, tanto vengono cucite su misura sui pazienti oncologici. Il futuro è già qui, sono le cure immunologiche ad esempio, o i nuovi farmaci in grado di risvegliare il sistema immunitario di chi viene colpito da un tumore. Si parla addirittura di medicina o di farmacologia, adesso mi correga lei se sbaglio, sartoriale. Su misura, su misura, sul tipo particolare di alterazioni molecolari del tumore, perché dobbiamo mai pensare che ho un tumore diverso da un altro e quindi quello che può andare bene a uno può non andare bene a quell'altro e sapere cosa dare in un caso o nell'altro caso diventa assolutamente fondamentale. Per questo lo facciamo attraverso lo studio delle impronte digitali del tumore, quindi lo studio di tutte le alterazioni genetiche che il tumore può avere, già alcune sono già praticate quotidianamente, però la ricerca mi porta ad uno studio molto dettagliato di questo, perché penso che lì troviamo alcune soluzioni. La ricerca è talmente nel vostro DNA che lei, insomma in qualche modo, lei piace anche dire che pervade un po' tutto lo IOV, no? Anche non i propri ricercatori puri. Sì, allora ognuno deve farla al proprio livello, con le proprie capacità, insomma. E tra l'altro i risultati della ricerca sono tra gli obiettivi di valutazione di tutte le unità operative, quindi veramente. Poi c'è chi è predisposto per questo, strutturato per questo, per cui corre a mille su questo, chi invece combina la propria attività clinica con quella di ricerca, però devo dire abbiamo una squadra di ragazzi meravigliosi che lavorano la sera di notte per fare queste cose, insomma, quindi io sono molto orgoglioso di questo. Passi da gigante, insomma, che però richiedono tanto lavoro e tanto impegno da parte dei ricercatori come quelli dello IOV, l'Istituto Oncologico Veneto. Molte di queste ricerche si possono fare grazie al 5x1000 e la buona notizia è che il numero di coloro che decidono di donarlo è in aumento. Più sordi è la ricerca per il bene di tutti, perché sostenere la ricerca significa consentire ai ricercatori e dunque anche agli oncologi di conoscere meglio il tumore, individuarne i punti deboli e disporre di una terapia più efficace. Senza ricerca non può esserci cura e lo dimostrano i progressi fatti proprio soprattutto nella lotta al cancro.